Benvenuti su News per te. Dovete tacere. Domenica Inn, la moglie di Mike Bongiorno senza parole. Mara Venier innervosita. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Dovete tacere, esclama Mara Venier a Domenica Inn, lasciando senza parole la moglie di Mike Bongiorno. Tensione palpabile in studio nelle ultime puntate del celebre show. In un clima di alta tensione, Mara Venier interviene per richiamare all'ordine il personale dietro le quinte, evidentemente troppo rumoroso durante la diretta. In studio era presente Daniela, vedova di Mike Bongiorno, per celebrare i cento anni del pioniere della tv italiana, condividendo aneddoti inediti. Proprio mentre Daniela iniziava a parlare, Mara Venier è stata costretta a interrompere l'intervista per richiedere rispetto e silenzio. Mara Venier implora più volte silenzio e rispetto, sottolineando l'importanza e la delicatezza del momento con la signora Bongiorno. Superato l'imbarazzo iniziale, Daniela riprende a raccontare, nonostante il turbamento causato dal baccano dietro le quinte. In un altro segmento del programma, Mara Venier commette una gaffe mentre intervista il gruppo ricchi e poveri, confondendo dettagli sulla loro carriera e sull'ubicazione delle province italiane. Questi errori hanno scatenato numerose reazioni umoristiche sui social network, mostrando che anche i professionisti possono sbagliare. Nonostante gli imprevisti, Mara Venier ha gestito le situazioni con fermezza, mantenendo il controllo del programma e dimostrando professionalità. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao!